Vorrei dare un augurio di speranza a tutti coloro che si apprestano a celebrare questo Natale. Non lo do con parole mie, bensì con la parola di Dio, che ascolteremo la notte di Natale. Il profeta Isaia dice da una parte che il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Queste tenebre si possono in qualche modo identificare anche con il momento dell'economia, della politica che attualmente stiamo vivendo, con la crisi anche di tante famiglie. Ma il Vangelo darà un annuncio ai pastori, a quelli che, non so se con molto rispetto abbiamo chiamato pecorai, A questi pastori l'angelo dirà, non temete. Ecco, vi annuncio una grande gioia. Nella città di Davide è nato per voi un Salvatore. Questo è il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Non temete. Non temete è davvero un messaggio importante in questo momento. Quando la politica, l'economia, ci chiedono sacrifici, 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 poi magari si scusano. Molto spesso la Chiesa è stata accusata di chiedere sacrifici. In realtà la Chiesa chiede una conversione del cuore e la chiede presentando un messaggio di gioia, una grande gioia. Ed è la gioia che deriva dall'essere solidali, da ritrovarsi seppure nella povertà, nella debolezza. E' a questo punto che il denaro e tutte le altre cose acquistano un valore diverso. Se i poveri sono accolti nella società civile, nella comunità cristiana, perché innanzitutto a loro si rivolge il messaggio del Natale, la solidarietà diventa solidale. Può sembrare la stessa cosa, ma talvolta c'è una solidarietà che fa male ai poveri e c'è una solidarietà che fa bene ai poveri. Ma il nucleo del messaggio della gioia riguarda questo segno, questo bambino che noi troviamo ancora oggi avvolto in fasce e adagiato in una mangiatoia. Vorrei chiedere a tutte le famiglie, soprattutto a quelle che sono più in difficoltà, che ricorrono anche all'aiuto della comunità cristiana, all'aiuto delle istituzioni civili per quanto è possibile, vorrei chiedere ai genitori di guardare i loro figli, di intravedere nella presenza di questi figli la presenza di Dio, del Dio che si è fatto uomo, del Dio che si è fatto bambino, del Dio che si è fatto debole per noi. Da qui può ripartire davvero un itinerario, un percorso di speranza, una speranza che siamo chiamati a rendere contagiosa perché l'uno all'altro possiamo dare speranza.